buon pomeriggio a tutti benvenuti a questa nuova puntata di lettura dantis leggiamo oggi come sapete il canto 27 del paradiso per chi di voi è nuovo ricordo che lo leggiamo tutto di seguito poi cominciamo la spiegazione a un certo punto facciamo una pausa durante la quale vi chiedo di inviare se ne avete dei dubbi e poi riprendiamo per leggere tutto di seguito alla fine al padre al figlio allo spirito santo cominciò gloria tutto il paradiso sicché mi nebriava il dolce canto ciò che io vedeva mi sembrava un griso dell'universo perché mi ebrezza entrava per l'udire per lo viso o gioia o ineffabile allegrezza o vita integra d'amore di piace o san sabrana sicura ricchezza dinanzi agli occhi miei le quattro facce stavano accese e quella che pria venne incominciò a farsi più vivace e tal nella sembianza sua divenne qual diverrebbe iove se lì e marte fossero ugelli e cambiassersi penne la provvedenza che qui vi comparte vice ufficio nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte quando io udì se io mi trascoloro non ti maravigliar che dicendio vedrai trascolorar tutti costoro quelli che usurpa in terra il luogo mio il luogo mio il luogo mio che vacca nella presenza del figliol di dio fatta del cimitero mio cloacca del sangue della puzza o del perverso che cadde di quassù laggiù si placa di quel color che per lo sole avverso nube di pigne da sera e da mane vi dio allora tutto il celco sperso e come donna onesta che permane di sé sicura per l'altrui fallanza pur ascoltando timida si fane così beatrice trasmutò sembianza e tale eclissi credo che in ciel fue quando battì la suprema possanza poi procedetter le parole sue con voce tanto da sé trasmutata che la sembianza non si mutò più non fu la sposa di cristo allevata del sangue mio di lì di quel di cleto per essere ad acquisto d'oro usata ma per acquisto desto viver lieto esiste più calisto e urbano sparsarlo sangue dopo molto fleto non fu nostra intenzione che a destra mano di nostri successori partecedesse parte dell'altra del popol cristiano né che le chiavi che mi fuor concesse divenisse al signato l'imvesillo che contrabattezzati combatesse né che io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci con dio sovente a rosso e di sfavillo in vesta di pastor lupi rapaci si leggono di qua su per tutti i paschi o difesa di dio perché pur giaci del sangue nostro caorsini e guaschi s'apparecchiano di bere o buon principio a che il fine conviene che tu caschi ma l'alta provvedenza che con scipio difese a Roma la gloria del mondo soccorra tosto sicco mio concipio e tu figlio che per lo mortal pondo ancor giù tornerai apri la bocca e non nasconder quel ch'io non nascondo siccome di vapore gelati fiocca in giusola era nostro quando il corno della capra del ciel col sol si tocca in su vidio così letera addorno farsi fioccar di vapore trionfanti che fatto a bien con noi cui vi soggiorno lo viso mio seguiva i suoi sembianti e segui finché il mezzo per lo molto li tolsi il trapassar del più avanti onde la donna che mi vide assolto dell'attendere in su mi disse adima il viso e guarda come tu sei volto da allora che io avea guardato prima i vidi mossome per tutto l'arco che fa dal mezzo al fine il primo clima sicch'io vedea di là da gade il varco folle d'ulisse e di qua presso il lito nel quale si fece Europa dolce carco e più mi fora discoverto il sito di questa aiuola ma il sol procedea sotto i miei piedi un segno e più partito la mente innamorata che donnea con la mia donna sempre di ridurre ad essa gli occhi più che mai ardea e se natura o arte fie pasture da pigliare occhi per aver la mente in carne umano nelle sue pitture tutte adunate parebber niente per lo piaccio divino che mi rifulse quando mi volsi al suo viso ridente e la virtù che non guardo mi impulse tel bellido di leda mi divelse e nel ciel velocissimo mi impulse le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme son che io non so dire qual beatrice parlò come scelse ma ella che vedea il mio visire incominciò ridendo tanto lieta che Dio parea nel suo volto gioire la natura del mondo che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno move qui ci comincia come da sua meta e questo cielo non ha altro dove che la mente divina in che si accende l'amor che volge e la virtù che piove luce e amor d'un cerchio lui comprende siccome questo gli altri e quel precinto colui che il ginge solamente intende non è suo moto peraltro distinto ma son gli altri mesurati da questo siccome dieci da mezzo e da quinto e come il tempo te nico tal testo le sue radici e negli altri le frunde o mai a te può esser manifesto poco vedi già che immortali affonde si sotto te che nessuno ha podere di trarre gli occhi fuor delle tue onde ben fiorisce negli uomini il volere ma la pioggia continua converte in bozzacchioni le sosine vere fede e innocenza son reperte solo nei parvoletti poi ciascuna pria fugge che le guance siano coperte tale balbuziendo ancora digiuna che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna e tal balbuziendo ama e ascolta la madre sua che con lo quella intera disia poi di vederla sepolta così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia di quel che apporta mane e lascia sera tu perché non ti facci maraviglia pensa che in terra non ecchi governi onde si sviglia l'umana famiglia ma prima che gennaio tutto si sverni per la centesma che laggiù negletta raggeran sì questi cerchi superni che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà o son le prore sì che la classe correrà diretta e vero frutto verrà dopo il fiore allora ricordiamo che l'episodio del canto ultimo che abbiamo letto il 26 era finito con il discorso di Adamo che aveva risposto alle quattro domande tacite di Dante e le ultime cose che Adamo aveva detto era che lui ed Eva erano stati solo sei ore nel paradiso terrestre prima del peccato e poi furono cacciati e il mondo dovette aspettare tantissimi anni di cui c'è il conto appunto nello stesso discorso per aspettare la redenzione allora davanti a queste ultime parole che pronuncia Adamo tutto il paradiso che è lì canta il gloria la preghiera antica gloria al padre al figlio allo spirito santo che Dante come poeta riferisce alterandone l'ordine e quindi attacca questo canto al padre al figlio allo spirito santo cominciò gloria tutto il paradiso sicché mi miebrava il dolce canto cioè in modo tale cantava il paradiso questo gloria che Dante sente di avere questa ebrietà mistica per ardore di Dio ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo perché mi ebrezza entrava per l'udire e per lo viso cioè Dante sente con l'udito questo questa preghiera antica ma allo stesso tempo vede come lucicano tutte le anime e quello gli sembrava un riso dell'universo siamo ormai abituati che in paradiso il brillo delle anime manifesti appunto ciò che il corpo apparente di esse che Dante non può vedere perché sono avvolte da questa luminosità fosse il sorriso appunto e quindi Dante dice che gli sembra un sorriso dell'universo tanto è brillante perché la mia ebrezza riprende la stessa immagine del terzo verso mi inebriava entrava per l'udire cioè attraverso il suono e per lo viso quindi attraverso la vista e il Dante poeta nel ricordo di questo meraviglioso spettacolo che sta vedendo esclama interrompendo la narrazione quattro frasi che iniziano con o è la sola volta in tutto il poema che per quattro volte di seguito c'è questa anafora o gioia o ineffabile allegrezza allegria ineffabile abbiamo parlato più volte vi ricordate del fatto che in grande misura quest'ultimo tragitto di paradiso che percorse il Dante pellegrino è indicibile per il Dante poeta o vita integra d'amore di pace o vita del tutto integra completa di pace e di amore o ricchezza sicura senza brama cioè senza desiderio non colmato qui è interessante questa parola ricchezza perché vedremo che per tutto il canto c'è un'antitesi tra l'idealità le idealità di Dante quello che accade in terra e appunto come è solito fare Dante si scaglia contro la cupidigia la cupidigia è appunto l'avidità di una ricchezza materiale che a differenza da quella che sta descrivendo qua che è senza brama senza anelito di avere qualcos'altro è caratterizzata fin dal canto della selva oscura come appunto questa lupa che dopo il pasto ha più fame che prima e quindi questo questa brama insaziabile delle ricchezze materiali e ora sì al verso 10 riprende la narrazione dinanzi agli occhi miei le quattro facce stavano accese le quattro facce sono le quattro luci dentro le quali ci sono San Pietro che vi ricordate ha interrogato Dante sulla fede Jacopo che l'ha interrogato sulla speranza Giovanni che l'ha interrogato sulla carità e Adamo che si era giunto a questo gruppetto seletto ultimamente quindi stavano queste fiamme accese e quella che prima venne cioè quella in cui c'è Pietro incominciò a farsi più vivace quindi a illuminarsi di più che è quello che accade ogni volta che un'anima vuole parlare con Dante e tal nella sembianza sua divenne qual diverrebbe Iove se lì e Marte fossero augelli e cambiassersi penne cioè e diventò nel suo aspetto nella sua sembianza dello stesso colore che diventerebbe Giove il pianeta argentato se Giove e Marte fossero uccelli e si scambiassero le penne Marte sappiamo che è rosso quindi una doppia immagine vero per dire che San Pietro diventa rosso si serve appunto di questa immagine prima di due pianeti che erano già stati presentati come contrastanti dal punto di vista cromatico ma non sazio di quello Dante paragona ipoteticamente questi pianeti a uccelli che si cambiano i colori si cambiano le ali vero ora la la menzione di Marte non deve essere oziosa visto che diciamo il colore che sta assumendo San Pietro perché appunto il discorso che San Pietro sta per emettere che è del tutto inatteso nella pace del paradiso pieno di termini più appartenenti al linguaggio comico di Malebolge e come sentimento anche di una indignazione accesa che ci ricorda piuttosto le invettive dantesche delle altre due cantiche è da collegare con questa nuova fisionomia che assume che non a caso è messa in rapporto con Marte vi ricordate che Marte è il pianeta insomma che influisce sugli spiriti militanti che Dante appunto ha trovato in quel cielo dove per esempio ha visto Cacciaguida e quindi capiamo insomma o diciamo ci viene suggerito che questo atteggiamento così inconsueto in paradiso che assume San Pietro risponde appunto alla sua volontà militante nonostante queste anime siano il trionfo di Cristo abbiano già sconfitto il peccato in terra sono consapevoli che in terra le cose sono messe male e vi parteciperanno in un modo molto attivo quindi Dante vede che tra queste quattro luci una quella di Pietro si illumina di più e si tinge di rosso e al verso 16 comincia una terzina abbastanza insolita perché Dante diciamo il Dante poeta riempie di parole un momento straordinario in cui tutti tacciono le anime che prima cantavano il Gloria fanno silenzio e quindi è evidente che il paradiso si prepara per una scena del tutto nuova la provvedenza che qui vi comparte viciofficio cioè la provvedenza di Dio che distribuisce lì nel paradiso i ruoli, le mansioni le attività che fanno tutti nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte cioè aveva fatto silenzio in tutte le parti che Dante poteva percepire quindi smettono di cantare quando dice Dante io udì e ora chiaramente parla Pietro che spiega a Dante come mai è diventato rosso al verso 19 se io mi trascoloro non ti maravigliar che dicendio vedrai trascolorar tutti costoro cioè se io cambio colore dice a Dante tu non ti devi meravigliare già che mentre io parlerò vedrai come tutti gli altri cambiano anche loro colore quindi ci sarà veramente una partecipazione corale al sentimento che esprimeranno le parole di San Pietro e ora appunto arriva questo discorso che appena annunciato nel dicendo io ora vedrai che cosa succede quindi dobbiamo immaginare che mentre Pietro pronuncia le parole che leggiamo dal verso 22 tutte le altre luci che sono lì cominciano a diventare rosse quelli che usurpa in terra il luogo mio il luogo mio il luogo mio che vacca nella presenza del figliol di Dio fatta del cimitero mio cloaca del sangue della puzza onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa terribili parole veramente sorprendenti nel paradiso ovvero intanto sappiamo immediatamente se siamo arrivati fin qui nella lettura che il personaggio all'uso attraverso questa perifrasi infamante quello che usurpa nella terra il mio luogo ripete le tre volte della Trinità il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio cioè quello che nella terra sta usurpando il papato che è stato fondato da me dice Pietro il luogo mio che è usurpato chiaramente sappiamo che Bonifaccio VIII quello che era papa appunto nella primavera del 1300 quando ha luogo il viaggio di Dante nell'aldilà papa che è stato più volte oggetto di invettive da parte di Dante come emblema della corruzione della Chiesa e in particolare è bene ricordare il canto XIX dell'Inferno dove nella terza bolgia dell'ottavo cerchio Dante trova le anime dei simoniaci tra i quali c'è questo papa Nicolo III che confonde Dante con Bonifaccio credendo insomma che Bonifaccio fosse morto prima di quanto gli fosse stato anticipato e che venisse a occupare il luogo che lui occupa in questi fori di questa terza bolgia perché è bene ricordare questo episodio perché in quell'episodio veniamo a sapere o a credere di sapere perché abbiamo anche imparato a diffidare di ciò che dicono i dannati ma in questo caso lo vedremo confermato dallo stesso San Pietro attraverso questa confusione che Bonifaccio VIII sebbene fosse vivo al momento del viaggio e quindi Dante non lo potesse trovare nell'aldilà è destinato a sostituire Nicolo III tra i simoniaci e a cacciarlo più giù nella pietra quindi attraverso questa confusione Dante ci fa una sorta di profezia indiretta sulla sorte futura di Bonifaccio ma siccome potevamo nutrire legittimamente il dubbio se questo fosse una bugia una pazzia di Nicolò perché abbiamo conosciuto dei personaggi dannati che dicono cose che non stanno né in cielo né in terra ora lo stesso Pietro confermerà diciamo il destino eterno di quello che sta usurpando il papato non per motivi diciamo di mancata legittimità diciamo canonica come qualcuno forse ha pensato visto che come abbiamo detto qualche volta Bonifaccio aveva occupato il papato dopo la rinuncia di Celestino V per cui qualcuno lo considerava un usurpatore dal punto di vista legale nel mondo ma qui è chiaro che San Pietro sta parlando di un'usurpazione al cospetto di Cristo cioè nella presenza del figlio di Dio il che vuol dire che Cristo non riconosce Bonifaccio come un suo rappresentante nel mondo e che quindi dal paradiso non riconoscono la legittimità del papato di Bonifaccio abbiamo avuto vi ricordate occasione di parlare di queste mancanze del papato quando abbiamo letto niente di meno che il canto centrale di tutto il poema e il canto sedici del Purgatorio in cui Marco Lombardo nel riferirsi alle cause del male nel mondo innanzitutto dalla colpa alla decisione che liberamente prendono gli umani ma immediatamente dopo aver confermato l'importanza del libero arbitrio si riferisce all'assenza dei due soli il papa e l'imperatore che dovrebbero appunto guidare l'umanità verso il bene verso i due le due finalità quella della felicità nel mondo quella della felicità celestiale cui è destinato l'essere umano e quindi come dice appunto Marco Lombardo è la mala condotta quella cioè la conduzione mancante o addirittura errata quella che ha creato il caos che secondo Dante dilaga nel suo mondo e infatti qua appunto chiaramente Pietro come primo papa dall'alto conferma innanzitutto che il suo luogo è vacante ma il predicato al verso 25 è ancora più forte perché dice che Bonifacio quello che usurpa il papato ha fatto del suo cimitero cioè della cripta dove è stato il martirio di Pietro cloacca del sangue della puzza per cui Lucifero cioè il perverso che cadde di quassù cioè Satana no? Lucifero che era l'angelo più bello e che cadde nel mondo laggiù nel centro dell'universo che è il centro della terra per Dante si placa gode vedendo il disastro che è la curia romana vedete la forza di queste parole intanto la presenza di questi due termini cloaca e puzza che nessuno avrebbe potuto immaginare prima della lettura di questo canto che facessero parte del vocabolario del paradiso vero? cioè termini che si potrebbero dare come esempio invece del cosiddetto linguaggio comico che caratterizza un poema che non a caso Dante stesso ha chiamato comedia ma la presenza di questi termini qua è molto interessante ed è indicativa della insomma della relativa portata delle affermazioni che a volte si leggono secondo cui nell'inferno il linguaggio è basso e man mano che si sale e va diventando sempre più sublime beh ci sono delle eccezioni sia nell'inferno possiamo pensare al carattere lirico veramente stupendo del discorso di Francesca da Rimini o all'altissimo stile di cui si serve Virgilio per parlare con Ulisse sono casi in cui la lingua dell'inferno non è affatto bassa come anche eccezioni dall'altra parte come questa che stiamo vedendo in mezzo del paradiso addirittura San Pietro non risparmia parole veramente di un registro molto molto colloquiale quando deve riferirsi una materia che merita questo registro perché il criterio è sempre quello dell'adeguazione dello stile alla materia e anche nel paradiso c'è di questa materia del mondo che merita appunto una denuncia così forte ma poi c'è un'altra cosa interessante da notare a proposito di questi termini in bocca dell'anima di San Pietro più avanti vedremo che forse l'avete percepito durante la prima lettura che in questo episodio il Dante Pellegrino riceve la sua ultima investitura poetica profetica cioè ne aveva ricevuto una nel paradiso terrestre da parte di Beatrice ha ricevuto quella centrale nel cielo di Marte da parte del suo trisavolo Cacciaguida qui anche Pietro esplicitamente gli dirà che questo lo deve scrivere e quindi in qualche modo il fatto che sia Pietro che si serve appunto di questo stile variegato quello che gli dice non nascondere quello che io dico può essere una giustificazione ulteriore della libertà e l'apertura linguistica con la quale appunto Dante poi scriverà il suo libro come se da Pietro ricevendo questa investitura profetica ricevesse anche un modello di denuncia che è quello di cui si servirà anche lui dopo il viaggio nello scrivere il poema allora ha appena detto che la situazione di Roma è di una gravità tale che addirittura Lucifero gode di vedere che in qualche modo le sue le le sue idealità si vedono nel mondo e chiaramente come era stato annunciato da Pietro il Dante poeta che riprende la voce al verso 28 ci descrive come mentre lui parlava tutte si facevano rosse le anime che erano lì di quel color che per lo sole avverso nube di pigne da sere e da mane vidio allora tutto il celco sperso cioè nello stesso colore che nel tramonto e nell'alba si illumina si illuminano le nuvole perché il sole è avverso è contro cioè è di rosso io vidi dice Dante che allora il cielo si era diffuso di questo rosso qui diciamo è interessante noi sapevamo già no che queste anime si sarebbero arossite chiaramente di indignazione mentre mentre San Pietro denuncia il disastro che c'è nella chiesa ma è interessante questa è una mia idea quindi prendetela con cautela perché non l'ho trovata nei commenti autorevoli ma visto che è un canto che come vedremo passa velocemente dalla denuncia di qualcosa di terribile alla profezia di un rinnovamento è un movimento quasi oscillatorio di questo canto come vedremo forse è significativo il fatto che Dante qui per riferirsi a questo colore si riferisca ai due momenti del giorno quando il sole se ne va e quando riesce e si riferisca appunto al momento della sera associato di solito alla notte il pericolo la mancata grazia che appunto è da collegare con l'immagine del sole che fin dall'inizio abbiamo detto è immagine di Dio e poi la mattina come diciamo come la speranza che dopo la sera rinasca il sole di nuovo che è il movimento appunto che avranno tutte le profezie del canto che seguono alla denuncia su qualcosa di negativo e al verso 31 Dante si sofferma a descrivere Beatrice e come donna onesta che permane di sé sicura e per l'altrui fallanza pur ascoltando timida si fane così Beatrice trasmutò sembianza le tale eclissi credo che in ciel fue quando patì la suprema possanza allora vedete Beatrice questa è la genialità di Dante ogni volta che descrive la sua donna che nonostante essere coinvolta simbolicamente da tutto questo discorso essendo Beatrice appunto l'emblema della teologia non perde mai la sua condizione di donna virtuosa che va cambiando il suo aspetto a seconda della scena che sta vivendo in questo caso è presentata come una donna onesta che è sicura e consapevole della sua virtù ma che per il fallo altrui cioè per l'errore il peccato di altri solo nell'ascoltare che qualcuno ne parla come quello che sta accadendo appunto no perché questo altrui nell'analogia si riferisce a Morifacio VIII lei solo il fatto no la donna che è paragonata a Beatrice in questo falso paragone perché anche lei è una donna solo per il fatto di star sentendo che qualcun altro ne parla diventa timida cioè si vergogna del male altrui solo per il fatto che qualcuno ne parli così Beatrice cambiò aspetto e dice Dante credo che lo stesso ecclisse che ci fu in quel momento fu lo stesso che visse il cielo quando la suprema possanza cioè Cristo patì e cioè durante la passione di Cristo ora non è chiaro Dante non lo dice ce lo chiediamo da secoli se Beatrice anche lei diventò rossa come le altre anime oppure come sembra di suggerire il paragone cioè l'immagine dell'eclisse se impallidì invece non lo sapremo mai perché Dante non ce lo dice quindi andiamo avanti tutto il cielo è diventato rosso forse con l'eccezione di Beatrice che è bianca e Pietro riprende la parola con come ci dice Dante ora nella tersina seguente la voce probabilmente rauca opaca poi procedetter le parole sue con voce tanto da sé trasmutata che la sembianza non si mutò più cioè poi le parole sue di Pietro continuarono con una voce così cambiata rispetto a quant'era prima che non si era cambiata di più la sembianza cioè l'aspetto che era cambiato da bianco a rosso e Pietro attacca ora con un chiasmo vi ricordate questa figura che sembra di mettere uno specchio a metà del del sintagma o dei versi perché beh lo leggiamo e poi e poi lo analizziamo al verso 40 non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio di lì di quel di cleto per essere ad acquisto d'oro usata ma per acquisto desto viver lieto esisto e pio e calisto e urbano sparser lo sangue dopo molto fleto cioè la struttura sarebbe la chiesa cioè la sposa di Cristo non fu allevata cioè alimentata con il mio sangue e di quello dei primi martiri dei seguaci di Pietro immediatamente dopo di lui come Lino e cleto non fu allevata cioè noi non demmo il nostro sangue affinché la sposa di Cristo fosse usata poi per acquistare oro per le ricchezze ma e qui qui è appunto tra il verso dove c'è il ma è come se ci fosse lo specchio perché ora si parla dell'acquisto che contrasta con quello d'oro ma per acquisto desto viver lieto cioè di questa dolce vita in paradiso esiste più calisto urbano altri quattro papi sacrificali sparsero il sangue dopo molto pianto nel martirio quindi il chiasmo mette in evidenza il il contrasto tra questo viver lieto che Dante aveva prima caratterizzato come sicura ricchezza senza brama e l'acquisto d'oro per cui sta essendo usata invece la chiesa che è cresciuta si è fondata sul martirio del il pianto e il di nuovo con un non al verso 46 continua Pietro non fu nostra intenzione che a destra mano di nostri successori parte sedesse la nostra intenzione mia e degli altri martiri non era che alla man destra dei nostri successori quindi dei papi che vennero dopo sedesse una parte del popolo cristiano e a mano sinistra dall'altra parte un'altra parte qui diciamo Pietro si sta servendo dell'immagine del giudizio finale no in cui i veri cristiani saranno a destra invece quelli esclusi dalla vita eterna a mano sinistra abbassando l'immagine alla scelta politica che fanno i papi della sua attualità che fanno sedere diciamo a sinistra quindi escludono dal loro favore i ghibellini e i guelfi bianchi e dalla parte destra fanno queste alleanze con i guelfi neri in riferimento chiaramente all'accordo tra Bonifacio VIII i guelfi neri che cacciarono Dante appunto dall'esilio e la casa di Francia e quindi prima prende appunto questa immagine del giudizio poi si serve al verso 49 delle chiavi che con la cui immagine si era presentato Pietro come personaggio ovvero quello che ha le chiavi di questo mondo eterno né che le chiavi che mi fuor concesse divenissero segnaco l'invesillo che contrabattezzati combatesse cioè né chiaramente dipende sempre da non fu nostra intenzione che le chiavi che mi furono concesse diventassero uno stemma nella bandiera nel vesillo che combattesse contro altri cristiani contro battezzati cioè attraverso questa negazione in qualche modo si sta criticando la mancata esistenza di crociate in cui appunto le chiavi della chiesa venivano messe nella bandiera contro gli infedeli non contro battezzati come invece Bonifacio sta agendo per sconfiggere politici che gli stanno impedendo di possedere delle terre vi ricordate a proposito di questo che nel canto 27 dell'inferno Guido da Montefeltro racconta come essendosi convertito e andato a vivere in un convento francescano Bonifacio fosse venuto a chiedergli un consiglio per sconfiggere la famiglia Colonna e anche lì appare non a caso la parola ebre come qua in contrasto perché appunto Guido dice a Dante Virgilio le sue parole mi parverebbero cioè che fosse ubriaco e nonostante gli diede poi il consiglio per cui probabilmente è condannato ma è interessante perché appunto il il mezzo attraverso il quale Bonifacio da quel che racconta Guido lo convince a dargli questo consiglio diciamo di fronte al quale era restio Guido è perché perché lui gli disse tu sai che io ho le chiavi che possono aprire e chiudere il paradiso quindi tu dammi questo consiglio che io da ora stesso ti assolvo di quello che stai per fare no e quindi vedete di nuovo qua le chiavi sono accostate a questi privilegi falsi mendaci come si dice ora attraverso cui la chiesa lucrava vero infatti al verso 52 aggiunge San Pietro ne ch'io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci o un dio sovente a rosso e di sfavillo cioè non era la nostra intenzione nemmeno che il mio viso fosse nei se nei sigilli per i privilegi concessi la vendita delle indulgenze per esempio conceduti mendaci chiaramente fallaci perché il papa non può promettere cose in cambio di soldi per cui un dio al verso 54 e questo verso è davvero sconvolgente e a mio avviso la critica non ha dato il peso che merita almeno da quello che ho letto sui commenti perché qua Pietro dichiara al presente che in genere queste vendite questi privilegi lucrativi che lui dall'assù vede che stanno avendo luogo nella curia papale spesso sovente lo fa rossire e disfavillare lanciare scintille perché io dico che è eccezionale questo verso perché era già abbastanza notevole l'indignazione con la quale Pietro diciamo si scaglia contro Borifaccio in paradiso ma uno poteva anche diciamo credere che questo tono così dirompente in confronto della pace la serenità del paradiso si dovesse all'eccezionale visita di Dante al fatto che Dante dovrà tornare al mondo e raccontare quello che vide e che visse e quindi potevamo pensare ma in questo verso 54 ci rendiamo conto che non è così che il discorso di Pietro fosse del tutto eccezionale solo in quel giorno della settimana santa del 1300 per assecondare la missione di Dante al mondo Pietro fa questa scena di diventare rosso e di mettersi a denunciare Borifaccio ma in questo verso 54 ci si apre una sorta di piccola finestra alla quotidianità del paradiso perché lui dice che spesso sovente diventa rosso come ora quando appunto guarda dall'alto queste cose e quindi Dante come scrittore ci sta invitando a immaginare un paradiso che non soltanto è militante e si indegna di quello che succede al mondo nella sua straordinaria visita ma nella quotidianità del paradiso succede questo che ogni tanto comincia a lanciare scintille San Pietro vedendo il disastro che stanno combinando i papi attuali e infatti adesso di nuovo una scena tremenda dal verso 55 sempre in bocca di Pietro in veste di pastor lupi rapaci si veggion di quassù per tutti i paschi o difesa di Dio perché pur giaci cioè travestiti da pastori da quassù si vedono lupi rapaci in tutti i paschi cioè in tutte le zone della cristianità vi ricordate che l'immagine dei lupi era apparsa nel canto 25 in apertura in questo eccezionale esordio di canto grazie al quale sappiamo che Dante sta scrivendo in esilio vi ricordate semmai continga che il poema sacro al quale ha un posto mano e cielo e terra beh in questo bellissimo attacco Dante dice che vorrebbe che il poema vincesse la crudeltà dice lui che formi serra del bello vile ovvio dormi agnello nemico ai lupi che gli danno guerra quindi i lupi apparivano pure là come nemici di Dante innocente agnello che proprio perché è stato nemico di coloro che volevano danneggiare Firenze era stato cacciato in esilio vero e qui la stessa parola lupi rapaci anziché pastori che debbono custodire il gregge sono quelli che invece lo uccidono e così vede San Pietro dall'alto i papi e al verso cinquantasette anche questo verso è molto notevole perché Pietro esprime la sua impazienza nei confronti della giustizia di Dio o difesa di Dio perché porgiaci cioè perché continui a tollerare questo e questo è interessante perché è una delle diverse manifestazioni che ci sono nel poema della condizione insondabile della giustizia di Dio anche per le anime dei salvati e anche tra quelle anime tra quelle così altolocate come chiaramente è San Pietro cioè anche i santi percepiscono che chiaramente sbagliando perché la giustizia di Dio è perfetta ma anche hanno quest'impazienza che possiamo avere noi nella terra e chiedono a Dio di reagire e al verso 58 comincia una profezia che integra quella che si era fatta come dicevo prima nel canto 19 dell'inferno perché anche lì dopo aver confuso Dante con Bonifacio VIII Nicolo III aveva fatto una profezia sul fatto che altri papi dopo Bonifacio sarebbero arrivati presto quindi avevano appunto aveva sottolineato l'accelerazione di questa simonia presso il papato e ora gli stessi papi che erano stati denunciati di là anche qua lo sono da San Pietro al verso 58 del sangue nostro caorsini e guaschi saparecchian di bere o buon principio a che vil fine convien che tu caschi cioè dal nostro sangue quello di noi papi morti in martirio si preparano adesso nel 1300 a bere caorsini e guaschi e guasconi chiaramente qua Dante sta alludendo attraverso caors al papa Giovanni XXII e attraverso guasconia a Clemente V altri due papi che dopo Bonifacio si sono macchiati anche loro di simonia ora a parte diciamo l'allusione metonimica a questi due personaggi la voce stessa caorsini ci ricorda senz'altro l'usura perché forse avete presente che nel canto undici dell'inferno dove il Dante poeta riferisce la spiegazione che nel sesto cerchio dell'inferno Virgilio gli diede sull'organizzazione dei peccati per riferire si appunto all'usura e alla sodomia che sono i due ultimi casi di violenza contro Dio che Dante deve ancora visitare quando sta parlando con Virgilio Virgilio appunto dice caors e Sodoma Sodoma e caors intendendo appunto per Sodoma ovviamente il peccato contro natura e caors appunto l'usura che Dante considera un peccato contro Dio nella nipote che è l'arte cioè il lavoro quindi l'usura viene qua in qualche modo suggerita anche dalla parola caors taorsini e di nuovo esclama San Pietro o buon principio cioè buon inizio chiesa fondata con i martiri a che fine vile è necessario è scritto che tu debba piombare cascare ma come vi annunciavo prima a proposito di questa ipotesi sulla sera e la mattina che vengono nominate insomma a proposito del rossore immediatamente dopo questa constatazione terribile del degrado in cui è caduta la curia romana arriva attraverso non a caso un avversativo la parola ma che dà inizio al verso 61 una profezia sul futuro rinnovamento della chiesa ma l'alta provvedenza che con Scipio difese a Roma la gloria del mondo soccorra tosto siccomio con Scipio cioè ma la providenza divina che difese la gloria del mondo cioè la monarchia a Roma attraverso Scipione l'africano che difese Roma da Nibale soccorra tosto cioè manderà l'alta provvidenza un pronto soccorso così come io con Scipio cioè conosco vedendo in Dio il futuro ecco questa profezia indeterminata di cui non sappiamo insomma il riferimento puntuale è molto probabilmente legato al legata a quella del veltro del primo canto dell'inferno e a quella del 515 che fece Beatrice nell'ultimo canto del purgatorio perché chiaramente qua è interessante il fatto che la curia sia stata diciamo molto negativamente connotata sia nella figura di Bonifacio sia in quella di Clemente e di Giovanni quindi anche nei papi che seguono e invece è proprio un uomo politico un lottatore come Scipione l'africano quello che viene messo in paragone con lo strumento che di cui si servirà la provvidenza divina per insomma difendere Roma quindi è molto probabile che Dante avesse in testa un riformatore politico più che religioso come solitamente si associa appunto alla profezia del veltro che caccerà la lupa da ogni villa come dice Virgilio nella selva e il 515 questo Dux che come dice Beatrice nell'Eden riporterà il mondo alla pace e immediatamente al verso 64 dopo aver fatto questa profezia viene appunto questa terza e ultima investitura profetica profetica e poi mi riferivo prima e tu figliol che per lo mortal pondo ancora giù tornerai apri la bocca e non nascondere quel che io non nascondo cioè tu figlio che a causa del peso mortale cioè il fatto che hai ancora il corpo tornerai giù al mondo apri la bocca e non nascondere quello che io non nascondo cioè denuncia quello che sta accadendo a Roma e questo è interessante perché in qualche modo il Dante poeta che forse ricorderete nel canto 19 dell'inferno eccezionalmente apre il canto annunciando un giudizio dicendo oh simon mago miseri seguaci no chiamando proprio in causa i simoniaci chiamandoli perché ora dice tocca a voi la tromba e quindi invitandoli al giudizio e quando abbiamo letto quel canto ci siamo posti il problema ma come si permette Dante di ereggersi a giudice della curia romana come fa qua beh forse la risposta è proprio in questi versi perché San Pietro gli ha detto non nascondere quello che io ti ho ti ho detto così fortemente dillo con la stessa forza anche tu e quindi qui sono finite le parole di Pietro finiscono non a caso dando quest'ultimi vestitura profetica a Dante e attraverso un'immagine veramente meravigliosa Dante ci mostra che finite queste parole il resto delle anime che erano diventate rosse ridiventano bianche e tornano nell'empireo da dove erano scesi al cielo delle stelle fisse per parlare con Dante è molto importante che queste anime che sono state insomma testimoni dei tre esami sulla fede speranza e carità da parte di Dante e di questa investitura profetica che non a caso viene fatta da Pietro il primo che ha interrogato Dante sulla fede e dobbiamo anche ricordare che il canto venticinque si apriva con la speranza di tornare a Firenze ed essere riconosciuto poeta per la sua fede che appunto sia lo stesso apostolo che ha interrogato e celebrato Dante per la fede quello che gli fa l'investitura profetica perché diciamo che in tutti questi episodi che vanno dal canto ventiquattro a questo ventisette rimane in chiaro che Dante essendo il Dante poeta può scrivere il libro proprio perché è stato celebrato per la sua fede e per la sua fede appunto come poeta si augura di tornare a Firenze ed è Pietro quello che gli fa Pietro che rappresenta la fede tra gli apostoli è quello che gli fa l'ultima profezia di ciò che deve fare come autore e tutto il paradiso che era sceso nell'ottavo cielo finito tutto questo cioè gli esami e l'investitura di Dante dopo la profezia tornano su come avendo esaurito appunto il loro compito che era testimoniare lì di questa di queste virtù di Dante e della missione che gli è stata assegnata e allora al verso 67 sì come di vapor gelati fiocca in giuso l'ere nostro quando il corno della capra del celco il sol si tocca in su vidio così letera addorno farsi fioccar di vapor triunfanti che fatto avviene con noi qui vi soggiorno è un'immagine veramente stupenda no? dice così come nella nostra area dell'Italia no? dell'emisfero nord i vapori gelati fioccano in giù cioè i fiocchi di neve cadono dall'alto quando è inverno cioè quando il corno della capra del cielo cioè del segno zodiacale del capricornio si tocca con il sole quindi nell'inverno in su vidio cioè ma chiaramente i fiocchi di neve scendono nella terra qui le anime si fanno cioè in su vidio così verso l'alto che l'eter addorno cioè il cielo stellato si faceva farsi cioè diventava adorno di anime bianche quindi Dante ci dice che quello che era rosso ridiventa bianco come sono appunto i fiocchi di neve e fioccar di vapor triunfanti cioè che come fiocchi di neve salgono verso l'alto questi vapori triunfanti che avevano fatto soggiorno lì con noi cioè nel cielo delle stelle fisse cioè Dante vede che il cielo stellato diventa pieno di fiocchi bianchi come di neve perché le anime dopo il discorso di Pietro ridiventano bianche e poi che come fiocchi di neve anziché cadere come capita in terra salgono verso l'Empereo lasciando l'ottavo cielo dove avevano soggiornato in tutte queste ore come sapremo ora sono passate sei ore da quando loro sono scesi a ricevere Dante nel cielo delle stelle fisse finora dove Dante sta per salire nel nono cielo l'ultimo dei cieli fisici guardando dalla terra e Dante che fa il verso 73 lo viso mio seguiva i suoi sembianti e seguì finché il mezzo perlomolto li tolsi il trapassar del più avanti cioè il mio sguardo li seguì seguì il loro aspetto di questi fiocchi bianchi che salgono verso l'alto e li seguì finché il mezzo cioè l'aria che c'è in mezzo tra l'oggetto della visione e Dante perlomolto cioè perché si sono allontanati molto li tolsi il trapassar del più avanti cioè impedì che penetrassero più oltre per arrivare alla mia vista quindi quando Dante non può più vedere le anime smette appunto di guardare verso l'alto perché non ha più niente da vedere e credo sia il momento di fare la pausa perché dal verso settantasei inizia la seconda parte del canto dove come vi ho un po' anticipato ora si narra l'ascensione di Dante Beatrice all'ultimo dei cieli fisici o il primo se guardiamo dal punto di vista di Dio che voi nella bibliografia potete trovare anche come primo mobile o cristallino o non o cielo ve lo chiarisco così evitiamo confusioni facciamo i nostri cinque minuti di pausa vi chiedo di inviarmi se ne avete i vostri commenti o dubbi riprendiamo dopo grazie 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 allora riprendiamo la lettura non vedo dubbi sulla chat quindi Dante dunque smette di guardare qui vedo una domanda scusate non ho capito perché hai detto che sono passate sei ore pensavo che in paradiso non c'era tempo allora ho detto che sono passate sei ore in realtà anticipando una cosa che leggeremo ora quindi ci arriveremo certo nel paradiso nel paradiso come regno è il vero paradiso che l'empirio chiaramente non c'è tempo ma Dante finora ha percorso e sta ancora percorrendo il nono cielo è diciamo compreso in questo che dirò i cieli fisici grazie a tutti di garaglia no no se corto completamente si, si es frisata ¿como? si ah rieccoci scusate scusate era caduta caduta la connessione dunque stavo rispondendo a Giselle stavo dicendo non so fin dove si è sentito stavo dicendo che quando io dico che nel paradiso non c'è tempo che è una cosa pacifica insomma che potete leggere anche in tutti i manuali si intende che nel vero paradiso che è l'Empireo non c'è tempo né c'è spazio ma che il percorso che ha fatto Dante finora attraverso i diversi cieli fisici e questo comprende anche il nono cielo che è quello che vedremo ora ma concentramoci su quello che abbiamo visto finora quando Dante attraversa i cieli della Luna Mercurio Venere eccetera e anche mentre è unito alla costellazione dei gemelli nell'ottavo cielo chiaramente è proprio il movimento di questi aste quello che imprime il passare del tempo nel mondo e quindi mentre Dante sta facendo quel percorso nella terra passa il tempo or bene nel paradiso come libro quindi se stessimo scrivendo quando si dice nel paradiso non ci sono indicazioni di tempo e scriviamo paradiso in italica quindi ci stiamo riferendo al paradiso come cantica questa è una verità che ha una sola eccezione che è appunto un passaggio che stiamo per leggere perché è vero che mentre nel libro inferno e nel libro purgatorio abbiamo avuto indicazioni di giorni e ore che nel mondo si stavano succedendo mentre Dante era nell'inframondo e nella montagna del purgatorio nel caso del paradiso come libro non c'è stata alcuna menzione a che tempo capita nel mondo mentre lui sta percorrendo i diversi pianeti e ora è insieme ai gemelli ma come leggeremo ora a proposito di un passaggio appunto che viene tra qualche terzina veniamo a sapere che mentre Dante si è soffermato nei gemelli e ha fatto questi esami sulle tre virtù e ha parlato con Adamo e ha sentito tutto questo discorso che abbiamo appena letto pronunciato da Pietro sono passate sei ore da quando è salito al cielo delle stelle fisse e lo sappiamo appunto c'è nel mondo chiaramente lui ha girato insieme ai gemelli un quadrante 90 gradi il che vuol dire che nel mondo sono passate sei ore da quando lui è salito in questo cielo perciò l'ho detto non so se ora è chiaro se Giselle è lì sì grazie Claudia grazie prego bene allora leggiamo dal verso 76 quando Dante smette di guardare verso queste anime che come fiocchi inversi di neve stanno salendo onde la donna che mi vide assolto dell'attendere in su mi disse adima il viso e guarda come tu sei volto cioè per cui Beatrice cioè il onde vuol dire a causa del fatto che Dante smette di guardare verso l'alto perché ormai non ci vede Beatrice che mi vide assolto cioè sciolto da questo compito di fare attenzione verso l'alto mi disse abbassa lo sguardo adima il viso e guarda quanto tu hai girato come ti sei volto insieme ai gemelli cioè quello che si chiarirà immediatamente dopo quello che Beatrice sta invitando Dante a fargli notare è che ora se guarda verso il basso verso la terra come ha fatto vi ricordate quando è appena salito al cielo delle stelle fisse vi ricordate che lì c'è nel canto 22 del paradiso c'è questa bellissima preghiera alle gloriose stelle dei gemelli che l'hanno accolto che accompagnavano il sole quando Dante vide sentì per la prima volta l'aria toscana e che poi l'accolsero quando lui salì nell'ottavo cielo in quel momento dopo questa diciamo preghiera che interrompe la narrazione Dante ci racconta che Beatrice gli disse guarda tutto quello che hai fatto no e lì c'è questa meravigliosa immagine dall'alto in cui Dante vede questa iuola che ci fa tanto feroci vero la terra che la vede veramente spregevole in confronto con la grandezza dell'universo beh ora che Dante sta per lasciare l'ottavo cielo Beatrice gli dice guarda verso il basso e vedrai quanto hai girato insieme con questa costellazione e quindi al verso settantanove finite le parole di di Beatrice dall'ora che io avea guardato prima i vidi mosso me per tutto l'arco che fa dal mezzo al fine il primo clima sicch'io vedea di là da gade il varco folle d'ulisse e di qua presso il lito nel quale si fece Europa dolce carco e più mi fora di scoverto il sito di questa iuola ma il sol procedea sotto i miei piedi un segno è più partito allora Dante ci dice che dal momento in cui aveva guardato prima che quello cui ci siamo appena riferiti narrato nel canto ventidue io mi vidi mosso vidi mosso me per tutto l'arco delle terre emerse diciamo l'arco diciamo immaginario attorno alle terre emerse che fa dall'inizio del primo clima alla fine cioè si usava dividere in sette climi il mondo abitato e quello più meridionale finiva appunto in Gade Cadice che è quello che Dante vede qua e siccome appunto Dante sta vedendo dal mezzo che è il meridiano di Gerusalemme fino a Cadice sono 90 gradi quelli che si è girato insieme con le stelle perciò io dicevo sei ore ma l'importante di questo è che ora Dante mentre prima vedeva tutta la terra abitata ora ne vede solo una parte dice sicché io vedevo di là cioè verso ovest da Gade il varco folle di Ulisse cioè l'Atlantico dove Ulisse tentò la sua impresa folle appunto di andare oltre le colonne di Ercole e di qua cioè vicino all'est il lito cioè l'Asia minore la costa fenicia nel quale Europa diventò dolce carico cioè la ninfa Europa rapita da Giove che si era trasformato in toro è indicato insomma attraverso un altro peccato il limite dove lui vede qui è interessante appunto che della parte della terra che lui vede in qualche modo i limiti che ne nomina riguardano il peccato della follia cioè della superbe intellettuale di Ulisse è quello della lusuria che porta alla violenza del rapimento di Europa è come se dopo il discorso di sul male nel mondo che appena ha sentito da San Pietro Dante che ha ora la missione di denunciare tutto vede la vede la terra diciamo avvolta dai peccati nella sua storia e la spiegazione di perché ora vede solo questo è appunto al verso 85 e io mi sarebbe stato discoperto più di questa iuola cioè di questa terra ma il sole era sotto i miei piedi vi ricordate che il sole è nel quarto nel quarto cielo e Dante è nell'ottavo procedeva partito più di un segno da dove ero io perché Dante con i gemelli e come sappiamo fin dall'inizio del poema nella Pasqua dell'emisfero nord il sole sta insieme al segno zodiacale dell'ariete in mezzo c'è tutto il segno zodiacale del toro e ogni segno è spostato di 45 gradi più di un segno dal sole perciò può vedere solo la parte della terra che illumina il sole mentre il resto lo vede in ombra e la cosa importantissima che viene qua è che Dante dopo aver guardato di nuovo la terra e aver constatato che in essa sono passate sei ore che cosa fa riguarda Beatrice con una con un ardore che non aveva mai avuto quindi al verso 88 la mente innamorata che donnea con la mia donna sempre cioè che ruota sempre innamorata con la mia donna di ridurre ad essa gli occhi più che mai ardea cioè ardeva più che mai dopo aver visto la terra circondata da due eventi peccaminosi ardeva più che mai di riguardare Beatrice e questo è un gesto molto importante soprattutto perché Dante ha visto il varco folle di Ulisse e Ulisse come noi sappiamo implica per Dante una grande tentazione nei confronti di Ulisse solo lui nell'inferno si è sentito attratto al punto di rischiare di cadere nella stessa volgia quindi questo gesto simbolico dopo aver visto tutta la terra che si poteva vedere dalle sue stelle dei gemelli tra cui ricorda chiaramente questo varco di Ulisse che lui voglia tornare con lo sguardo verso la sua donna è un gesto importantissimo dopo il riconoscimento da parte dell'emblema della fede che Pietro della sua missione di scrittore come autore di fede e quindi Dante deve tramandare tutto questo ormai purificato dalle tentazioni che ebbe che sono probabilmente simboleggiate da questo folle varco di Ulisse ricordiamo a proposito che la parola folle follia Dante le ha usate per riferirsi alla sua propria impresa nel secondo canto dell'inferno e anche nel primo del purgatorio quando Virgilio dice a Catone che Dante per la sua follia fu così vicino alla morte che lui dovette salvarlo vero nella selva allora adesso al verso 91 Dante insomma invece di descrivere quant'era bella Beatrice fa una dunaton cioè questa figura retorica dell'impossibile per dire che la bellezza di lei insomma superava tutte le bellezze naturali artistiche anche se si fossero aggiunte e se natura o arte fe pasture da pigliarocchi per aver la mente in carne umana nelle sue pitture tutte adunate parebber niente per lo piacer divin che mi refulse quando mi volsi al suo viso ridente cioè anche se diciamo la tutte le cose che fece la natura o l'arte per attrarre gli occhi e dominare la mente si radunassero sia in carne umana di persone belle viste o nelle pitture della natura sembrerebbe e l'arte scusate sembrerebbero niente tutti unite in confronto con il piacere divino che mi illuminò quando io mi girai verso il suo viso sorridente e qua al verso 97 Dante narra la sua salita al nono cielo e la virtù che lo sguardo mi indulse del bel nido di leda mi diverse e nel cielo velocissimo mi impulse cioè la virtù che mi prodigò lo sguardo di Beatrice mi sradicò mi diverse mi separò dal bel nido di leda era la mamma appunto di castore polluce che sono i gemelli in cui è Dante ora e mi impulsò verso il cielo più veloce di tutti appunto il nono cielo e a differenza di quanto fosse capitato prima che Dante non appena entra in un cielo sa dov'è cioè dentro la luna dentro mercurio dentro marte dentro il segno dei gemelli in questo caso non può dire dov'era al verso 100 spiega perché le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme sono che io non so dire qual Beatrice per loco mi scelse cioè talmente uniforme questo cielo eccelso che io non posso dire in che parte in che luogo sono capitato per decisione di Beatrice evidentemente Dante si sta domandando dove siamo e lei Beatrice come al solito legge in Dio questo desiderio di Dante di sapere quindi al verso 103 ma ma ella che vedea il mio desire incominciò ridendo tanto lieta che Dio parea nel suo volto gioire cioè lei vedendo il desiderio di Dante ricominciò a parlare sorridendo con una tale letizia che nel suo volto sembrava di gioire cioè di godere Dio stesso e comincia a parlare così al verso 106 la natura del mondo che quiete il mezzo e tutto l'altro intorno muove quinci comincia come da sua meta e questo cielo non ha altro dove che la mente divina in che si accende l'amor che involge e la virtù che piove allora la natura del mondo che ha il mezzo quieto cioè la terra e tutto l'altro muove attorno qui inizia la natura del mondo inizia qui come da sua meta come il suo obiettivo e anche principio abbiamo parlato molte volte di questa nozione secondo cui origine e fine concidono nella mente di Dante e questo nono cielo dove siamo appena saliti intende Beatrice non ha un'altra ubicazione un altro dove che la mente divina quindi è il primo spazio esistente la mente divina in cui si accende l'amore che lo muove e la virtù che fa piovere agli altri cieli vi ricordate nel secondo canto del paradiso quindi in una delle sue primissime spiegazioni Beatrice aveva spiegato che a partire dal nono cielo dove hanno inizio il tempo e lo spazio come ora vedremo qui si ripeterà questa nozione la bontà divina si va distribuendo progressivamente da cielo in cielo per arrivare diversificata al mondo sublunare qui Dante Beatrice sono arrivati al cielo dove inizia questa distribuzione è l'ultimo spazio che conoscono o il primo guardandola dall'alto dalla creazione di Dio perché fuori da questo nono cielo non c'è spazio né tempo questo è tutto compreso nella mente divina e quindi non c'è uno spazio che contiene questo nono cielo la faccia che io vi vedo di comprensione parziale è quella che Dante desidera che abbiamo perché vuole che noi in questi ultimi canti del paradiso percepiamo il limite della nostra capacità di comprendere perché la nostra mente razionale umana è limitata dai parametri appunto spazio temporali non possiamo per noi stessi capire questa inclusione dell'universo dentro la mente divina quindi da questo divario tra la realtà del paradiso e la nostra comprensione deriva l'invito di andare a conoscerlo direttamente e abbandonare i limiti della nostra ragione trasumanando come fece Dante e diventando intelletto come gli angeli vero? allora al verso 112 continua Beatrice luce e amor d'un cerchio lui comprende siccome questo gli altri e quel precinto colui che il cinge solamente intende allora questo nono cielo che qui nel verso 112 è lui è compreso da luce e amore così come lui comprende gli altri fisicamente come spazio e quel precinto colui che il cinge solamente intende cioè quello che lo avvolge che l'empirio è compreso solo da Dio stesso da colui che lo ginge e quindi niente è più grande di quel non spazio né tempo che avvolge il nono cielo è compreso inteso solo da Dio che è intendente solo di sé e al verso 115 Dante ci ha detto che era velocissimo questo cielo non è suo moto peraltro distinto ma gli altri sono mensurati da questo siccome dieci da mezzo e da quinto cioè il suo movimento non è scandito da altri ma tutti i movimenti sono misurati da questo movimento che è quello iniziale così come il numero dieci è misurato dalla metà e dal quinto cioè così come ogni numero deriva dai suoi numeri primi e non viceversa quindi qui nasce il movimento come dai numeri primi il resto dei numeri e ora il verso 118 finora ha parlato del fatto che questo è il primo spazio che esiste che al di fuori c'è solo la mente di Dio ora parlerà del tempo in mezzo ha parlato della velocità che appunto dipende dal rapporto tra tempo e spazio quindi al verso 18 e qui preparatevi per una delle bellezze maggiori di questo libro e come il tempo te ne incota il testo le sue radici e negli altri le fronde o mai a te può essere manifesto cioè ormai puoi capire se io ti ho detto che qui inizia lo spazio e che inizi il movimento ormai per te deve essere chiaro che e qui diciamo fuori metafora quello che sta dicendo Beatrice che qui inizia il tempo ma lo dice con una immagine davvero di una bellezza sbalorditiva perché dice che il tempo ha le sue radici in questo testo cioè in questo vaso di terracotta che è questo cielo nono e che negli altri cieli quelli più giù ha le sue fronde cioè il tempo è presentato attraverso l'immagine di un albero cosmico capovolto che ha le sue radici nel nono cielo e quindi nascosti in un vaso ma che le sue manifestazioni cioè le manifestazioni del tempo appaiono invece nel movimento dei cieli sottostanti stupenda questa immagine dell'albero capovolto per riferirsi al tempo e dopo aver detto questa bellezza attraverso questa immagine stupenda per riferirsi allo stupendo ordine dell'universo si passa come altre volte nella commedia alla denuncia di come gli umani sommersi dal cupidigia non guardano questa bellezza invece si attaccano ai beni materiali al verso centoventuno è sempre Beatrice o cupidigia che i mortali affonde si sotto te che nessuno ha podere di trarre gli occhi fuori delle tue onde cioè la cupidigia come un oceano no che sommerge gli umani con un potere tale che nessuno riesce a guardare oltre le onde e al verso centoventiquattro ben fiorisce negli umani il volere ma la pioggia continua converte in bozzacchioni le sosine vere cioè è vero che negli uomini può fiorire bene la volontà ma la pioggia continua delle tentazioni converte il vero frutto le vere sosine in bozzacchioni cioè in frutti putridi questa parola bozzacchioni è davvero dello stesso registro di puzza e cloacca che avevamo sentito in bocca di Pietro e nel verso centoventisette fede e innocenza sono reperte solo nei parvoletti poi ciascuna pria fugge che le guance siano coperte cioè nei pargoletti nei nei bambini ci sono fede e innocenza ma queste virtù fuggono prima che si coprano di peli le guance dei bambini e al verso centotrenta diventa ancora più tremendo tale balbuziendo ancora digiuna che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna e tal balbuziendo ama e ascolta la madre sua che con lo quella intera disia poi di vederla sepolta allora un tale che quando ancora è balbuziente digiuna cioè quando non sa ancora parlare digiuna nel senso positivo cioè rispetta la quaresima per esempio ma poi una volta che la lingua gli si scioglie impara a parlare divora qualunque cibo in qualsiasi luna quindi non rispetta alcuna norma insomma liturgica e tal balbuziendo di nuovo insomma lo stesso gerundio mentre balbetta mentre bambino ama la madre e le dà ascolto ma subito dopo quando sa parlare con intera lo quella desidera di vederla sepolta terribile allusione alla cupidigia appunto alla volontà della morte dei genitori pur di ereditarli terribile e adesso questa terzina 136 138 che è molto enigmatica non c'è un accordo su che cosa voglia dire Dante qua in bocca di Beatrice così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia di quel capportamane e lascia sera cioè letteralmente così diventa nera la pelle bianca di quella figlia del sole cioè quello che porta la mattina e lascia la sera solo che non si capisce se questa figlia sia la luna che secondo diciamo un'allusione del cantico dei cantici è considerata la chiesa militante quindi che diventa nera vorrebbe dire la corruzione della chiesa se il sole sia Cristo e quindi la figlia sia la chiesa se sia la maga Circe che cambiando colore appunto riguarda la corruzione non lo sapremo mai ma chiaramente il senso generale è che così ciò che nasce puro come un bambino diventa sporco con la crescita e al verso 139 torna Beatrice all'idea di Pietro dell'usurpazione del papato perché dice tu perché non ti faccia maraviglia pensa che in terra non è chi governi onde si svia l'umana famiglia cioè tu per non essere troppo sorpreso da quello che sto dicendo considera che nella terra non c'è nessuno che governi è vacante il papato è vacante l'impero per cui l'umana famiglia sbanda in questo modo si devia dal bene ma ecco dopo la denuncia di nuovo questo movimento verso il positivo così come prima avevamo sentito da San Pietro che presto la divina provvidenza soccorrerà Roma ora Beatrice al verso 142 anche qui attraverso l'avversativo ma perché appunto si oppone alla constatazione di uno stato di decadenza ma prima che gennaio tutto si sverni per la centesma che laggiù negletta raggeranno sì questi cerchi superni che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà uson le prore sì che la classe correrà diretta è vero frutto verrà dopo il fiore allora l'allusione temporale è abbastanza problematica perché quello che dice Beatrice è prima che gennaio esca del tutto dall'inverno a causa della centesima parte del giorno che laggiù nel mondo non è considerata questi cieli superni raggeranno così che arriverà una tempesta che è così aspettata anche da San Pietro che aveva detto perché pur giaci questi cerchi superni manderanno una tempesta che farà tornare le poppe dove sono le prure e quindi la flotta la classe comincerà a correre dritta ora chiaramente sta parlando di una vendetta giusta da parte di Dio che correggerà le deviazioni del mondo ma quando accadrà questo è un po' problematico intanto qui c'è un'allusione questa centesima frazione di un giorno che è dimenticata al mondo è l'allusione al fatto che nel calendario giuliano che ancora vigeva nel 1300 il giorno aveva 300 scusate l'anno aveva 365 giorni più 6 ore quando in realtà l'anno ha 365 giorni e 48 minuti e 46 secondi e per recuperare questo avanzo ogni 4 anni appunto si faceva un bisestile ma rimaneva comunque un centesimo appunto di giorno che stava facendo spostare il calendario arbitrariamente fissato rispetto del vero movimento degli astri per cui per esempio l'equinozio di primavera cadeva il 13 marzo anziché il 21 vero? Ora Beatrice sta dicendo prima che gennaio per questo corrimento per questo slittamento progressivo diciamo si trovi totalmente fuori dall'inverno Dio punirà diciamo attraverso una tempesta questi maledetti e le cose cominceranno di nuovo a correre bene ora il problema è che secondo i calcoli astronomici prima che succeda quello debbono passare 72 secoli e quindi sono moltissimi anni quindi non si sa se Beatrice sta usando una sorta di antifrasi cioè dicendo non passeranno tantissimi secoli che questo vedrà veramente la luce oppure se è letterale che dobbiamo intendere che prima che passino 7200 anni comunque questo si risolverà insomma bisogna aspettare ma qui è interessante come Beatrice per indicare diciamo il ritorno del mondo al buon funzionamento recuperi un'immagine molto vicina a quella del canto di Ulisse no? vi ricordate che negli ultimi versi del canto 26 dell'inferno si racconta come dalla nuova terra del purgatorio nacque un turbine che fece girare tre volte la nave e mettere la prura in giù e la poppa in su come altrui piacque affondando appunto la nave di Ulisse quindi Ulisse che era stato ricordato per la sua folle impresa qualche verso prima ora è di nuovo all'uso come se diciamo la prura che lui ha guidato in un modo superbo stia per tornare nella dritta via e infine al verso 148 Beatrice riprende l'immagine delle sosine vere che stanno diventando bozzacchioni per la pioggia costante del peccato e quindi dopo l'immagine della nave della flotta che comincerà a navigare dritta aggiunge vero frutto verrà dopo il fiore cioè arriverà veramente un frutto salutare dopo il fiore come nella natura deve succedere e invece sta succedendo il contrario bene lo rileggiamo aspettate non so se c'è una domanda l'apro l'apro grazie non so non so chi è che mi ha scritto questo bellissimo messaggio perché vedo solo un numero qua qualcuno vuole firmare questo messaggio sono io grazie 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 mille grazie a te grazie no no a voi della compagnia veramente questo corso è una gioia per tutti noi che lo condividiamo rileggiamo il canto allora è bello al padre al figlio allo spirito santo cominciò gloria tutto il paradiso sicché mi inebriava il dolce canto ciò che io vedeva mi sembiava un briso dell'universo perché mia ebrezza entrava per l'udire e per l'oviso o gioia o ineffabile allegrezza o vita integra d'amore e di pace o sansa brama sicura ricchezza dinanzi agli occhi miei le quattro face stavano accese e quella che prima venne incominciò a farsi più vivace e tal nella sembianza sua divenne qual diverrebbe io se lì e Marte fossero ugelli e cambiassersi penne la provvedenza che qui vi comparte vici ufficio nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte quando io udì se io mi trascoloro non ti maravigliare che dice in Dio vedrai trascolorare tutti costoro quelli che usurpa in terra il luogo mio il luogo mio il luogo mio che vaca nella presenza del figliol di Dio fatta del cimitero mio cloaca del sangue della puzza onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa di quel color che per lo sole avverso nube di pigne da sere e da mane vidio allora tutto il celco sperso e come donna onesta che permane di sé sicura e per l'altrui fallanza pur ascoltando timida si fane così Beatrice trasmutò sembianza e tale eclissi cred Dio che in ciel fue quando patì la suprema possanza poi procedetter le parole sue con voce tanto da sé trasmutata che la sembianza non si mutò più non fu la sposa di Cristo allevata del sangue migno di lindi quel di cleto per essere ad acquisto d'oro usata ma per acquisto desto viver lieto esisto e pio e calisto e urbano sparser lo sangue dopo molto fleto non fu nostra intenzione che a destra mano di nostri successori parte sedesse parte dall'altra del popolo cristiano né che le chiavi che mi fuor concesse divenisser signato l'invesillo che contrabattezzati combattesse né che io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci un Dio sovente a rosso e di sfavillo in veste di pastor lupi rapaci si veggion di quassù per tutti i paschi o difesa di Dio perché pur giaci del sangue nostro caorsini e guaschi s'apparecchian di bere o buon principio a che vilfine convien che toccaschi ma l'alta provvedenza che con scipio difese a Roma la gloria del mondo soccorra tosto siccome io con cipio e tu figliol che per lo mortal pondo ancor giù tornerai apri la bocca e non nasconder quel che io non nascondo siccome di vapor gelati fiocca in giuso l'ere nostro quando il corno della capra del celco il sol si tocca in su vidio così lettera addorno farsi e fioccar di vapore triunfanti che fatto avviene con noi qui vi soggiorno lo viso mio seguiva i suoi sembianti e seguì finché il mezzo per lo molto li tolsi il trapassar del più avanti quando la donna che mi vide assolto dell'attendere in su mi disse adima il viso e guarda come tu sei volto dallora che io avea guardato prima i vidi mosso me per tutto l'arco che fa dal mezzo al fine il primo clima sicchio vedea di la dagade il varco folle d'ulisse e di qua presso il lito nel quale si fece Europa e più mi fora discoperto il sito di questa aiuola ma il sol procedea sotto i miei piedi un segno è più partito la mente innamorata che donnea con la mia donna sempre di ridurre ad essa gli occhi più che mai ardea e se natura o arte fe pasture da pigliare occhi per aver la mente in carne umana o nelle sue pitture tutte adunate parebber niente per lo piacer divin che mi refulse quando mi volse al suo viso ridente e la virtù che lo sguardo mi indulse del bel nido di leda mi diverse e nel ciel velocissimo mi impulse le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme son che io non so dire qual beatrice per loco mi scelse ma ella che vedea il mio disire incominciò ridendo tanto lieta che dio parea nel suo volto gioire la natura del mondo che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno move quinci comincia come da sua meta e questo cielo non altro dove che la mente divina in che si accende l'amor che involge la virtù che i piove luce e amor d'un cerchio lui comprende siccome questo gli altri è quel precinto colui che il cinge solamente intende non è suo moto per altro distinto ma gli altri son mensurati da questo siccome dieci da mezzo e da quinto e come il tempo tegne in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde o mai a te può essere manifesto occupi digia che immortali affonde si sotto te che nessuno ha podere di trarre gli occhi fuor delle tue onde ben fiorisce negli uomini il volere ma la pioggia continua converte in bozzacchioni le sosine vere fede innocenza son reperte solo nei parvoletti poi ciascuna pria fugge che le guance si encoberte tale balbuziendo ancora digiuna che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna e tal balbuziendo ama e ascolta la madre sua che con lo quella intera disia poi di vederla sepolta così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia di quel che apporta mane e lascia sera tu perché non ti facci maraviglia pensa che in terra non ecchi governi onde si svia l'umana famiglia ma prima che gennaio tutto si sverni per la centesma che è laggiù negletta raggeranno sì questi cerchi superni che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà us le prore sì che la classe correrà diretta è vero frutto verrà dopo il fiore grazie arrivederci ci vediamo la settimana prossima ciao